Il mio nome è Vincenzo Nibali e sono un corridore del team Liquigas Cannondale. Questa è la mia seconda volta al giro di California, la prima è stata nel 2009, quindi questa è la mia seconda esperienza e sono molto contento di essere qui. Quest'anno l'appuntamento principale della stagione è il Tour de France, quindi cercherò di andare lì con la Liquigas Cannondale per fare veramente qualcosa di grande. Questo sarà molto difficile, però già qui al Tour de California troverò tanti concorrenti che poi saranno anche al Tour de France. Penso di fare molto bene qui al giro di California e comunque sono in prospettiva per il Tour de France.